lavorate tutti ok non vengono non vengono non vengono non vengono per altri strada per strada non vengono non vengono non vengono dialogare non vengono non vengono 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 Per le proposte che presentiamo, per quello che siamo stati e siamo, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro e del progresso della nostra vita.